In questo weekend tanto caro agli amanti dello sport, gli appuntamenti sono davvero imperdibili. Partiamo con la pallavolo femminile, con il cava volley, che dopo la pausa dello scorso turno torna sul rettangolo di gioco a Sala Consilina, domenica 1 novembre, contro l'Orosciano Distribuzione. Entrambe le compagini provengono da una vittoria piena. Le Metelliane, lo scorso turno, infatti, hanno battuto le Avellinesi, mentre l'Orosciano Distribuzione, lo Sportland Montesarchio. Si prospetta dunque un match interessante. Parola d'ordine, mantenere la calma. Passiamo al volley maschile con il Cavacuccinetti, che dopo la sconfitta subita in casa contro l'Indomita Salerno è agguerrito più che mai e non vede l'ora di riscattarsi. Il prossimo match, domenica 1 novembre, vedrà i ragazzi di Mister Ferrara incontrare il gran volley sparanese, reduce da una vittoria contro la tripalda volley. Parola d'ordine, vietato commettere errori. E dalla pallavolo passiamo al basket, con i ragazzi di Coach Bisogno, ancora carichi di entusiasmo dopo la bella vittoria conquistata contro la Polisportiva Sorrento. Il prossimo turno vedrà il Cavabasket impegnato lontano dalle mura di casa, contro il Torre Annunziata, reduce da una sconfitta contro l'Olimpia Capri. Fischio di inizio alle 19 di domenica. Parola d'ordine, vietato abbassare la guardia. E concludiamo con il tennis tavolo cava, impegnato nel campionato di serie B2. Il trio Maraviglia-Metelliano impugnerà le racchette sabato 31 ottobre, dalle ore 15.30, contro il Titti Taranto, presso la palestra San Nicola di Pregiato. Per loro la parola d'ordine è crederci fino alla fine.